Tieni traccia delle scienze sociali della maturità economica del secondo test la traccia del secondo test di maturità dell'opzione sociale economica della Human Science High School e la globalizzazione. Il tema legge politica dell'economia inizia da due canzoni una delle globalizzazione i suoi oppositori di Steniglitz l'altro un canto del libro degli effetti. Potenziale limiti della globalizzazione una visione multidisciplinare. Di Pompeo post a Anna Maria Rossia o per affrontare questa traccia? Di cosa possono parlare gli studenti? Globalizzazione al secondo test scienze sociali economiche umane nel frattempo. Devi approfondire il tema un po'. Leale qui e poi dovrai affrontare il tema della globalizzazione nella sua interezza come parlare di. Globalizzazione Il termine globalizzazione indica che tutti i processi economici e tecnologici si. Svolgono in tutto il mondo e con un alto grado di reciproca interdipendenza. Questo fenomeno non è nuovo. Ma si è intensificato negli ultimi decenni grazie all'avvento di internet. Globalizzazione ha avuto effetti su molti aspetti di la vita. Compresa l'economia. Politica. La cultura e società. Ha cambiato il modo in cui le aziende operano. Ha aumentato la competitività migliorato l'efficienza. Ma anche portato a disuguaglianze economiche e sociali ha avuto impatti negativi sull'ambiente. Anche il globalizzazione ha avuto conseguenze sulla politica internazionale. Portando a una maggiore cooperazione tra i paesi. Ma anche a una maggiore concorrenza e conflitto. Le altre notizie nel secondo test.